non so se sia eccesso o mancanza di sensibilità ma è un fatto che le grandi tragedie mi lasciano quasi indifferente ci sono sottili dolori certe situazioni e rapporti che mi commuovono assai di più di una città distrutta dal fuoco questa è la prima ragione per cui prendo a scrivere oggi dei due vecchi grimaldi vissuti in un tempo relativamente felice mi pare siano nati all'incirca verso l'ottanta lo furono anch'essi per lunghissimi anni avevano la fortuna di una passabile rendita e si dice perfino che fossero tutte e due molto belli poi le cose cambiarono verso i cinquanta dopo che già da quasi dieci anni avevano appreso a vivere un poco apartati morì il loro unico figlio e se la felicità li aveva resi quasi simili a centinaia di altri questa prima perdita valse a renderli profondamente diversi e fu proprio da quel momento che cominciarono ad essere se stessi non uscirono più non ricevevano quasi nessuno dai cinquanta ai sessanta compresi gli ultimi quattro di guerra vennero ad accorgersi sempre di più che la giatezza di un tempo si andava implacabilmente assottigliando ma non mosse un dito per tentare di impedirlo per dieci anni si limitarono ad osservare come si guarda alle volte l'ultimo lembo di lettera che il fuoco del camino sta lentamente bruciando ormai non rimaneva loro che una casa allora con una specie di commovente cinismo fecero il conto degli anni che con tutta probabilità restava loro da vivere e il conto di quello che avrebbero potuto ricavare da quella vendita decisero di concludere l'affare così dopo aver ricavato la metà o forse meno di quello che un qualsiasi altro avrebbe potuto con tutta facilità guadagnare si ritirarono in un appartamento del centro se lo si vuole non c'è niente di più lontano del centro osserva lui che dai tempi passati aveva conservato soltanto un piccolo bagaglio di paradossi e di massime cominciò in questo modo la terza fase della loro vita senza neppur sospettare che ce ne sarebbe stata fra breve una quarta quale ultima civetteria egli si mise a leggere Orazio essa faceva per casa qualche leggero lavoro che fingeva di trovare indispensabile così i pomeriggi passavano e se a questo mondo ci possono essere diverse specie di felicità non sento a credere che fossero quasi felici accadde un mercoledì all'improvviso dall'orologio della piazza vicina suonarono le dieci e mezzo e come al solito la donna che ogni mattina veniva a fare la spesa e a spazzare si tolse i grembiule salutò e se ne uscì in tutta fretta prima dell'una doveva ancora fare due case ma immediatamente rientrò c'è un signore che chiede di lei disse un po' ruvidamente per via di quel contrattempo la signora osservò se tutto all'intorno fosse in ordine credo che possiamo anche riceverlo qui e se decise fatelo pure entrare Maria no disse la donna entrando di nuovo chiede scusa ma desidera parlare personalmente con lei il marito alzò gli occhi dal libro giovane chiese poi rivolto alla donna eh sì disse questa senza riuscir bene a capire eh sì giovane giovane non deve arrivare ai trent'anni ah tempi felici tempi felici sia fretta cosse la testa lui guardando la moglie non aspettare nemmeno che esca il marito dovrebbe aspettare un bel po' rispose ridendo sua moglie sono più di due anni che non esci di casa la loro età e le loro condizioni erano ormai tali che una visita costituiva una specie di avvenimento di avventura e mai in ogni caso una visita di giovani adesso invece una persona e anche giovane cercava personalmente di lei non arrivava proprio a capire non importa non importa a che scopo scusarti ti ho forse chiesto qualcosa continua lui a scherzare nel medesimo tono io leggevo Orazio e non ho sentito una parola non prendertene sorridendo di nuovo essa uscì nel salotto trovò un giovane di trent'anni e anche meno che naturalmente non aveva mai visto e il cui nome l'era perfettamente sconosciuto aveva una barba di tre o quattro giorni e indossava un vecchio impermeabile giallo di quelli che parecchi anni prima usavano certi ufficiali di cavalleria anche la cravatta e le scarpe non dimostravano altra pretesa che quella di rispondere alla necessità insomma a parte una certa aggressività che non era per niente antipatica la perfetta figura del povero studente di lettere che farà indubbiamente il giornalista ma che per il momento si dichiara disposta a dare elezioni private a prezzi di assoluto favore ecco vede ecco qui comincia lui quando si furono seduti con un certo impaccio disinvolto e impaziente di cui egli stesso pareva sorridere la storia è piuttosto lunga so bene ma dopo tutto non credo che sia possibile accorciarla di molto ecco vede ho 26 anni 27 in agosto e sono studente in legge o meglio sono iscritto a un qualche anno di legge che con tutta probabilità deve essere l'ultimo come mio figlio venne spontaneo di commentare alla signora e si era disposta ad ascoltare con una certa materna e amorevole ironia ho studiato un po' a Bologna due anni voi sapete com'è e poi altri due anni a Milano proprio come mio figlio ricordo lei nuovamente beh disse sorridendo il giovanotto che si sentiva messo in imbarazzo da questi inaspettati accostamenti credo che questi siano gli unici punti di contatto fra noi due ecco spiego poi accennando a impermeabile scarpe e magari a un'altra miseria che doveva essere ancora più profonda e più sua di quella dei pursialbi indumenti non posso credere che non si trovi meglio di me la signora cambiò tono vorrei anch'io avere la stessa sicurezza oh mi dispiace disse lui comprendendo oscuramente che il figlio doveva essere morto mi dispiace per quanto anche così io credo di dover restare dello stesso parere e aspettò con composta impazienza che l'onda di commozione suscitata in lei da quell'accenno si spezzasse per riprendere l'argomento interrotto bene rispose dopo qualche secondo se fossi solo un poco coerente coerente tanto così non dovrebbe importarmi niente di quello che lei potrà pensare di me invece tra l'altro ho anche la pretesa che lei mi stimi qualcosa si chiama esser stupidi no? la signora non disse niente l'altro ieri pensando al nostro incontro avevo immaginato un mucchio di belle parole oh ma anche vere capisce per esempio che l'uomo è sempre migliore delle sue parole e spesso anche delle sue azioni o qualcosa del genere qui però è un'altra cosa qui le accostò un poco la poltrona quella della signora che alle ultime parole si era messa ad ascoltarlo non so se più attentamente ma certo con una diversa attenzione qui io voglio dirle soltanto questo ho 27 anni ho lavorato ho studiato mi sono dato da fare e in sovra più anche due anni di guerra ho fatto tutto quello che potevo fare e qualche volta anche quello che non potevo anche quello che non potevo sicuro protesta lui alzando un poco la voce come se lei avesse obiettato qualcosa o il suo viso avesse espresso in qualche modo disapprovazione so bene che quando si hanno a casa del genere delle poltrone così e tutto il resto è facile provare degli sdegni ma io non provo nessuno sdegno si scolpò lei ormai credo di non riuscire a sdegnarmi nemmeno contro di me meglio così allora è quello che cercavo e sarà più facile per tutti e due taglio corto lo studente e riprese e non sono riuscito a concludere nulla e continuando così riuscirò a concludere ancora meno ancora meno chiese lei un poco stupita si meno ancora meno ancora niente per qualcuno è già qualcosa ma adesso è bene tornare a noi due ecco adesso sto per fare qualcosa che può essere anche un'infamia che tutti considereranno senz'altro un'infamia essa alzò istintivamente gli occhi su di lui un'infamia gli chiese si un'infamia confermò lui con una lentezza scontenta guardandosi le punte delle scarpe va di bene però che io non ho mosso un dito per cercarla anche se fosse stata la cosa più comoda del mondo non avrei mosso nemmeno un dito non pretendo che questo sia un gran merito ma è la verità e gliela dico invece la sì l'infamia si è presentata da sé mi è venuta a cercare lei è la parola ha trovato il mio nome la mia casa la mia stanza è venuta da me né più né meno che questo è venuta da me e allora se è così la cosa cambia mi sembra anche lei dovrà ammettere questo cose del genere non si sa mai da dove vengono e uno potrebbe pensare che vengono da molto in alto chissà essa naturalmente non poteva accettare che un'infamia venisse dall'alto aveva anzi sempre creduto che non potesse venire che dal più basso di noi tutt'al più poteva arrivare ad ammettere che altri credesse anche una cosa del genere ad ogni modo adesso era troppo inquieta per giudicare o pensare ciascuno continuò intanto il giovane alla sua provvidenza e per uno come me non credo ci sia un genere migliore di questo voglio dire che non credo di avere il diritto di gettarla fuori dall'uscio ma parli disse vivamente lei che altro aspetta bene concluse il giovane io dovevo prima di tutto dirle questo perché lei si convinca che non potevo fare che così ma che cosa le può importare la mia convinzione che cosa il giovane strasse di tasca una lettera e la pose sul tavolino qui signora c'è una lettera che deve interessarla moltissimo e che adesso interessa altrettanto anche a me quando lei ha venduto assieme agli altri mobili quella scrivania io ne ho trovato circa 40 del genere nascoste in un fascio dentro il terzo cassetto a sinistra non gli ho detto che è venuta a trovarmi bene voglio dire che la terza persona alla quale queste lettere importerebbero più ancora che a noi è è suo marito e so bene che l'unica persona che non dovrebbe mai leggere queste lettere è proprio lui e che lei farà di tutto perché lui continua a credere che non siano mai state scritte so perfino che lei qualche settimana fa ha venduto una casa e che ne ha ricavato anche abbastanza un altro magari avrebbe potuto guadagnarci di più ma quello che lei ha preso è già sempre abbastanza la signora cominciava vagamente a capire lo guardò inquieta e fece per aprire la bocca ma lui la interruppe per concludere in fretta io penso che 150 mila lire risolverebbero molte cose anche a tutti e noi tre perché adesso si tratta di tutti e noi tre questo è il fatto di nuovo la signora tentò di parlare lui di nuovo l'interruppe no disse mentre salzava lei non deve dirmi nemmeno una parola tutto quello che lei potrebbe dirmi lo so lo so già da qualche giorno e credo anche ad essere d'accordo con lei sì io sono d'accordo con lei ma tutto questo non può cambiare niente anche sulla cifra non c'è niente da dire io avrei potuto chiederle di più o di meno invece le ho chiesto esattamente quello che spero mi basti per non avere più bisogno di provvidenze del genere ci fu un secondo di silenzio oggi è mercoledì riprese lui sabato mattina alle nove alle dieci o anche più tardi se più tardi può farle comodo io tornerò con tutte le altre lettere anche la signora si alzò seguendolo lentamente verso la porta qui il giovane si fermò un momento per guardare un ritratto sulla parete ecco provò a dire lui con una voce un poco più dolce come vede i miei punti di contatto con lui non andavano più in là di due anni di università lui non è stato invitato da questa provvidenza rispose lei con ironia malinconica e gli uscì ehi ehi disse il marito entrando in quel momento in salotto col suo libro aperto e venendole incontro vai mandato via con una faccia un po' scura mi sembra dio mio che brutta cravatta si limitò a dire lei con voce stanca trovandosi a rifarge nel nodo ehi ehi brutto segno Anna Carianina si accorse di non amare più suo marito quando trovò che aveva brutte orecchie continuò egli a scherzare ma tu le cravate potresti anche cambiarle cercò di rispondere lei nel medesimo tono ma non ci riuscì e non riuscì nemmeno a sorridere solo più tardi dopo aver letto la lettera e sebbe l'idea di ciò che quella visita di venti minuti nemmeno era stata veramente per lei né più né meno che questo la rovina tutto infatti si era svolto in maniera così strana e improvvisa e il tono si era mantenuto fin quasi all'ultimo così familiare che essa non era riuscita neppure a rendersene conto e anche i fatti del resto a cui si riferiva quella lettera erano ormai così lontani nel tempo da appartenere piuttosto ad un'altra vita di cui la presente non poteva essere tutta il più che una memora e testimonianza trent'anni prima proprio in quel tempo che suo marito correva ogni mese a Livorno e commetteva discrete pazzie dietro a una giovane donna qualcuno si era innamorato di lei costui che aveva intelligenza e fortuna e sapeva di possedere l'una e l'altra e aveva scritto bellissime lettere in un tempo e in un ambiente in cui questo era forse più importante della stessa fortuna lei se n'era innamorata a sua volta e non aveva tardato a rispondere nient'altro non c'era stato nient'altro e adesso quella persona era un morto e lei nient'altro che una vecchia che non ricordava nemmeno il nome di chi le aveva scritto a quei tempi quel fascio di bellissime lettere ma intanto quel foglio era lì sopra il tavolo l'unica cosa a cui il tempo non aveva arrecato di stacco o innocenza era proprio quella pagina scritta essa era il presente era vivo peccato era una pietra di trent'anni prima conservatasi per un ironico miracolo che veniva all'improvviso a cadere nel solitario lago della loro vecchiaia Dio mio salzò la signora scuotendo la testa e anche quei soldi sono troppi sono troppi sono troppi e poi bisognerà fare in modo che lui non si accorga di niente era troppo disperata per sdegnarsi di una menzogna ma troppo stanca per potervi ricorrere si mise ad ascoltare la pioggia in quel momento essa cominciò a scrosciare più forte e suo marito non ebbe nemmeno il tempo di entrare per aiutarla ad abbassare le persiane che essa era già un temporale si bagnarono abbastanza tutti e due poi all'improvviso le luci si spensero giù nella strada si sentirono grida e risate allora si misero a sedere vicino credo che non abbiamo fatto un gran bene a vendere la casa disse lui dopo un poco l'ironia era una specie di difesa per lui e vi ricorreva spessissimo ma adesso l'ora il buio e la pioggia la rendevano inutile oh non vivremo così a lungo rispose lei indovinando il suo pensiero beh ma io non volevo dire questo e gli mentì io invece si disse lei con una dolcezza un po' amara io invece volevo dire proprio questo tutta colpa della pioggia ribatte lui credo invece che non abbiamo affatto il diritto di lamentarsi e che non sia neanche di ottimo gusto abbiamo saputo essere giovani in gioventù e vecchi adesso e non vedo chi saprebbe dire altrettanto e ti voglio dire anche una cosa quando Riccardo morì io pensai che non ci sarebbe mai potuto essere al mondo ingiustizia più grande mi sembrò sul momento che il fatto andasse contro lo stesso ordine delle cose e adesso invece sono convinto che la sua morte abbia seguito proprio un certo ordine che io non riesco a spiegare ma che ci deve pur essere e con tutto il rimpianto che ho per lui credo che la sua vita non avrebbe resa così unita la nostra credo che abbia contribuito anche lui a questo nostro capolavoro sul serio lei se ne stette in silenzio sono cose che ci dicono al buio mi sembra disse poi dopo un poco naturale naturale e il buio ci vuole anche per questo e già che la luce non torna voglio dirtene un'altra che la vita di due vecchi vale mille volte di più di quella di due giovani mille volte di più senza nemmeno un confronto può anche darsi non dico ma non l'ho mai sentito dire da nessuno ma perché nessuno ci ascolta egli disse e perché ormai abbiamo abbastanza buonsenso che non ci importa più niente che gli altri ci credano o no ci fu un altro minuto di silenzio sì penso anch'io che il buio qualche volta ci voglia ammise al fine lei benché un poco esitando e allora anch'io voglio dirti una cosa credo che sia molto importante per te per me e per quello che hai detto prima importante egli accostò un po' la sua seggiola lei si inclinò verso di lui in quel momento la luce tornò credo anch'io che abbiamo fatto male a venderla a casa si limitò a dire lei per quella sera tutto era finito si alzarono più tardi però essa aspettò che il marito si fosse addormentato per scrivergli questo caro quello che tu hai detto oggi quando è venuta a mancare la luce è la cosa più vera che mi sia mai sentita dire da te e vorrai quasi ringraziare il temporale che ha voluto permetterla anch'io volevo dirti qualcosa e stavo già per aprir bocca quando il buio è finito così che non trovo mezzo migliore che scriverti e l'una è un quarto e tu stai già dormendo da un'ora qui leggerai una lettera che ti darà molto dolore ti darà tutto il dolore di cui alla nostra età siamo ancora capaci e sabato mattina verso le 9 o le 10 quel giovane che è venuto oggi a trovarmi e sul quale hai anche un poco scherzato te ne porterà un fascio intero avrai potuto evitarti questo dolore consegnando al giovane l'ira 150.000 un terzo di quello che ci ha procurato la vendita della nostra povera casa così tu avresti potuto continuare a pensare che la vita di noi due fosse davvero quel capolavoro che hai detto e che anche la fine del nostro Riccardo vi avesse contribuito pensa il tuo dolore è il mio e poi una certa malinconia e freddezza fra noi forse fino all'ultimo giorno per la somma che uno dei nostri vecchi fattori potrebbe guadagnare in 15 giorni nemmeno come valiamo poco dirai i giovani si offenderebbero per molto meno so bene e io non mi sentirei certo di dar loro torto ma noi il mio povero Enrico abbiamo più di 60 anni e siamo soli oggi ho dovuto convincermi che l'essere o il considerarsi felici è un lusso che ormai non ci possiamo permettere più così come la dignità di una volta la fierezza e tante altre cose di quel tempo noi abbiamo tre quattro anni da vivere ancora forse Dio non voglia anche cinque e ho pensato che per noi non c'era altro dovere che questo di poter aspettare giorno per giorno la fine io so bene ti dico che l'amarezza più grande non ti verrà tanto dal dolore in se stesso quanto dal constatare che la tua felicità è stata valutata così miseramente assai meno di quei regali che più di una volta mi hai fatto in passato senza nemmeno pensare che fossero qualcosa di più di una gentile sciocchezza tutto ciò è triste povero Enrico tutto ciò è così triste io non riesco a trovare nessuna parola di speranza o di scusa sono le due e dormi ancora ha il respiro piuttosto pesante e non sai ancora niente Giovanna